E' lo buono a te, a te è stato che sei consigliere il tribunale di un uomo. Dentro il bagno, dentro il bagno. E questa è la bocca, c'è la giacca. Adesso è la volta di Natila, che ha due occhi spettacolari. Poi abbiamo Francesco Paglodetti. E' la paziente molto bella, perché stanno facendo i passi in questo momento. Paglodetti. E' la paziente. E' la paziente. Grazie a tutti. Ma dietro lo ha chiamato ancora nessuno, inaprendibile. Michele Carli, ah, benvenuto con noi ci amo.